Rebecca Parziale, come sapete, ieri si è lasciata, ok? Ieri Rebecca Parziale si è lasciata con Patrizio Morellato. Io voglio fare un piccolo appello, eh. In primisio devo avere l'autorizzazione dei genitori. Io sono... a me piace molto aiutare le persone nel momento in cui hanno veramente bisogno. Hanno veramente bisogno e... A me... Ti faccio. Bico sto parlando. A me interessa particolarmente aiutare le persone, quindi... Se vuoi essere abbracciata, accudita, avere un appoggio, un sostegno da qualcuno, io ci sono davvero. Se hai bisogno di qualcuno che ti scaccoli, ci sono. Se hai bisogno di qualcuno con cui... Niccol Brother, sto parlando, porca troia, porca trotra, porca troia. Se hai bisogno di... non solo di riprodurre un pochettino di musica, posso essere al tuo fianco e riprodurtela io, piuttosto che far partire Spotify. Posso pulirti il culo tranquillamente io, se hai bisogno. Sono un ragazzo molto molto gentile, quindi... L'appello è stato fatto. Posso anche pulirti la bocca quando ti sporchi, magari, mentre mangi. E... E basta. Io finirei... E... E...